Per Ferrara, purtroppo, da Rimini solo in due hanno dato la disponibilità. Quindi solo due disponibilità, chi ha dato la disponibilità? Solo due sono Lupus e Maximus. Vedranno con chi di dovere... Perché a Ferrara che manifestazione c'è? In pratica a Ferrara c'è l'inaugurazione del nuovo comando dei vigili della Polizia Municipale. Vi hanno chiamato? Siamo stati chiamati per fare i vigiles.